Buonasera a tutti, sono Giovanna Forlanelli, Presidente della Fondazione Luigi Rovati. Mi fa molto piacere vedervi così numerosi all'inizio di questo ciclo un po' particolare sulle scritture pre-italiche. Cominceremo oggi partendo dal palosco e avremo poi delle lingue veramente per molti di noi sconosciute, il retico, il piceno, il venetico, per finire con i nuovi linguaggi, i linguaggi dell'intelligente artificiale, i nuovi linguaggi che vengono utilizzati oggi all'interno di questo mondo digitale. Queste lingue, perché queste lingue? Perché tutti noi abbiamo appunto conoscenza del greco e del latino e non pensiamo che in realtà l'Italia nasce prima come, diciamo così, un mondo di piccoli stati o di piccole aree in cui ciascuno aveva una propria identità, aveva una propria lingua. E queste conversazioni sono fatte proprio per capire anche un po' quelle civiltà e come la lingua, l'alfabeto, a esse proprio delle funzioni all'interno della storia di queste civiltà. Per cui non sarà un corso in cui vedremo un'alfabetta e impareremo a tradurre dal gusto l'italiano. Anche se, come voi sapete, all'interno del nostro museo in questo momento abbiamo proprio un focus particolare sulla scrittura e sulla lingua etrusca, ospitiamo la stella di Lenno, magari poi prima di partire con le diapositive il professor Sassatelli ci dirà due parole sia della stella di Lenno che della stella di Picchio dell'importanza di questi due preziti che rappresentano due mondi opposti ma anche due mondi molto vicini e sono collocati all'interno di un'area nostra che è proprio legata alla scrittura etrusca. Scrittura etrusca che si è sempre pensato e si pensa tuttora in alcuni casi sia sconosciuta e il professor Sassatelli ci dimostrerà che non è vero. Per cui introduco con piacere il professor Giuseppe Sassatelli, Beppe Sassatelli, professore medito di Etruscologia all'Università di Bologna nonché presidente dell'Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici con cui la fondazione collaboro già da qualche anno. A te Beppe. Per salutarvi, buonasera, sono molto contento di essere qua. Come ricordavo Joana, oggi in questi mesi c'è una esposta al museo, una stella di lenno che è un monumento fantasioso, fantastico, centrale per tutto il problema dell'etrusca e della lingua etrusca e quindi abbiamo preso l'occasione di questi documenti esposti in mostra per fare questo ciclo. Che dico subito, è un ciclo, lo abbiamo pensato insieme, coraggioso anche perché l'argomento è molto di nicchia, se così si vuol dire, soprattutto perché vorremmo parlare di questo argomento non in termini usuali, consueti, mistero, la reciprozione, ma ne vorremmo parlare con puntualità rispetto ai problemi che queste lingue pongono, sia dal punto di vista dell'interpretazione che soprattutto dall'uso storico che si fa all'interno delle comunità che usano queste lingue e quante sono le conoscenze che possiamo dedurre da questa rassegna. Abbiamo preso tre lingue emblematiche, poi di italianetiche ce ne sono tante altre, altra questione, vorremmo impostare questo incontro non come la tradizionale conferenza dove c'è un relatore che parla per un'ora e poi dopo si chiede se c'è qualcuno che vuole fare domanda, abbiamo cercato di ridurre il tempo di esposizione da parte del relatore, intendendolo più come un'introduzione, al massimo una mezz'oretta e quindi dedicando il resto del tempo all'approfondimento e a un colloquio anche con il pubblico sperando che questo possa anche essere occasione per dire cose che magari il relatore di suono dice. Questa è l'impostazione, questa è la prima, speriamo funzioni bene perché così imposteremo anche le altre. A questo punto io mi siedo e chiederei di mandare subito la prima che è la positiva. Ecco, allora, Italia antica prima di Roma vuol dire un mosaico di popoli, li vedete qua esemplificati, libri vecchi, viceli latini, etruschi, mosaico di popoli che si intreccia con il mondo greco e mosaico di popoli che parla una propria lingua. Questo è un quadro delle lingue dell'Italia, alcune lingue dell'Italia antica e vedete ci sono anche delle lingue di cui parleremo in questo ciclo, tra cui l'etrusco, l'etrusco che si parla nell'etrubia propria, quindi Toscana e Lazio per usare termini geografici moderni, ma anche nella Piemura Padana, perché qui stavano gli etruschi e anche nella Campania, è una delle lingue più diffuse nell'Italia pre-romana. Allora, io avendo mezz'ora di tempo per parlarvi di un argomento che potrebbe occupare il tempo di un corso universitario, cioè 30 ore, mi sono sforzato di riassumere alcuni punti essenziali, quindi andrò per spunti, per suggestioni, saltando anche un po' di, non dico di parole in frasca, spero di no, ma insomma per punti diversi. Allora, primo punto, il mistero della lingua etrusca, che è un luogo comune nell'immaginario collettivo, domanda frequente, allora avete risolto il mistero della lingua etrusca, avete finalmente decifrato l'etrusco? Ecco, questi sono due termini che non vanno più bene, non sono assolutamente adeguati, non c'è problema di decifrazione, perché l'etrusco usa per scrivere un alfabeto greco, è precisamente un alfabeto greco che viene dalla Grecia, che viene portato dai greci che colonizzano l'Italia meridionale, in particolare dai greci che arrivano a Pitecuse e a Cuma, che sono le due colonie greche più antiche attorno alla metà dell'ottavo secolo, e questi greci oltre a portare tanti segni di civiltà e di progresso, portano anche la scrittura come modo di espressione e lo strumento che serve a realizzare la scrittura, che è naturalmente l'alfabeto. Per dirvi, questa è una tavoletta d'avoglio che veniva usata per insegnare la scrittura, vedete il quadro centrale era spalmato di cera e sul bordo è inciso l'alfabeto, che è un alfabeto greco, un alfabeto greco, non stiamo a leggere tutte le rette, quindi già alfabeto d'arma delta, un alfabeto greco che è stato trovato a questa tavoletta in una città etrusca, ad Alvegna, quindi è uno strumento che gli etruschi usano per insegnare la scrittura e per insegnare la scrittura usano questo strumento che è l'alfabeto greco. Ora, il problema della differenza del diverso livello dell'alfabeto scrittura è molto semplice, l'alfabeto è uno strumento che serve a scrivere in molte lingue, con piccole modifiche, è sufficiente fare l'esempio moderno, pensate con un alfabeto che usiamo per la lingua italiana, scriviamo in inglese, in tedesco, in francese, quindi in tante altre lingue. L'unica cosa che gli etruschi fanno è di prendere da questo alfabeto modello una serie di segni che indicano dei suoni, quindi questa è l'altra grande novità mediterranea, cioè una scrittura che si esprime non con il sistema ideografico, con il sistema fitografico, cioè con il sistema di realizzare un segno che in realtà non è un suono ma è un significato, gatto, l'immagine del gatto, in realtà questo sistema è un sistema alfabetico, con i vari segni si scrivono tutte le parole che poi motoramente danno con la lingua. L'unico intervento è che gli etruschi devono eliminare alcuni segni di cui non hanno il suono, e questo è molto semplice, e aggiungere alcuni segni di cui invece hanno il suono e in greco non c'è. È la stessa cosa che si fa, visto il racconto, il paragone che facevo prima, tra l'alfabeto che usiamo noi per gli italiani e l'alfabeto che usiamo per gli inglesi, sono lettere che noi non usiamo. Quindi questa era solo una tabella per dire che gli etruschi tolgono il beta, il delta, le sonore, adesso non vorrei entrare troppo nel dettaglio, ma c'è una piccola azione di modifica rispetto all'alfabeto modello, che è l'alfabeto che gli etruschi usano per la loro scrittura e per insegnare la loro scrittura. Questo è il primo punto. La scrittura viene insegnata a partire proprio dall'etrobia meridionale con un sistema che è anche documentato da un punto di vista archeologico, che in questo caso, vedete questo cosiddetto calamario in bucchero, ha, se guardate bene, tutte le consonanti ripetute davanti a tutte le vocali. Tra le lettere che gli etruschi non hanno c'è anche l'omicron, non hanno il suono, quindi le vocali etrusche sono iota, alfa, epsilon e y. E quindi in questo caso vedete un bel esercizio di scrittura proprio in alto, chi, ka, ku, ke, pi, pa, pu, pe. Quindi è quell'esercizio che si fa oggi per apprendere la scrittura, monumentalizzato in questo strumento, che fa vedere come davanti alle consonanti di questo alfabeto si comincia a imparare la scrittura. Questa è la prima considerazione, quindi non c'è un problema di decifrazione, nel senso che la lettura è semplice, poi vedremo che ci sono altri problemi e che questo apprendimento avviene dopo l'arrivo dei greci nell'Italia meridionale. Quando avviene questo apprendimento, quando avviene questo fenomeno e dove, con che seriazione cronologica. Questa è l'altra considerazione, gli etruschi cominciano a scrivere attorno al 700 a.C., i greci arrivano nell'Italia meridionale attorno al 750, ci sono 50 anni di apprendimento, le prime iscrizioni sono attorno al 700 e qui si apre subito un problema di rapporto con il latino, perché tutte le fonti latine, tutta la tradizione latina dice che i primi a scrivere, nell'Italia antica furono i latini, ovviamente le fonti latine parlano di Romolo, in realtà la documentazione archeologica ci dice che i primi a scrivere sono sicuramente gli etruschi, attorno al 700 a.C., perché i documenti più antichi di scrittura in latino sono almeno di 30 anni più recenti rispetto ai documenti etruschi, almeno questa è la documentazione archeologica che abbiamo. Quindi c'è una priorità cronologica degli etruschi nell'apprendere lo strumento della scrittura, che naturalmente è altra cosa rispetto alla lingua, nel senso che la lingua si parla e si comunica attraverso la scrittura, è un sistema diverso di comunicare che ha bisogno di questo, diciamo così, espediente. Quindi una priorità degli etruschi rispetto al mondo latino. Prima considerazione. Seconda considerazione, la scrittura degli etruschi, secondo punto, diciamo, di suggestione, di discussione, è che gli etruschi scrivono la scrittura, scusate, sia degli etruschi che dei latini in questa fase, è una scrittura monumentale, è una scrittura su materiale solido, non è una scrittura su libri, perché si scrive sulla ceramica, si scrive sulla pietra, si scrive sul bronzo, e questo sistema di scrittura è naturalmente molto diverso dal punto di vista della realizzazione. Scrivere sulla ceramica è relativamente facile, soprattutto si prende un vaso, si incidono lettere, separa l'aspetto produttivo di chi fa il vaso dall'aspetto di chi scrive. Quindi il vaso lo fa il vasaio, quello lo dà a chi sa scrivere, e questo scrive sul vaso, quello che gli viene detto di scrivere. Però si scrive anche sulla argilla prima della cottura, questa è la tegola di capo, una lunga iscrizione che stavo usando in Berlino, e in questo caso c'è una tegola di argilla molle, fatta da un artigiano che fa l'argilla, e poi chi sa scrivere incide l'argilla, ancora molle, poi viene cotta al forno. E qui siamo ancora in una fase in cui i due aspetti sono separati, chi scrive può anche prescindere da chi fa l'oggetto. Ho fatto qualcosa? Ecco. C'è un altro punto un po' più difficile che è la scrittura su pietra, in questo caso scrivere sulla pietra ci vuole una tecnica artigianale perché non è facile, e in questo caso o chi sa incidere la pietra è anche uno che sa scrivere, oppure chi sa scrivere deve imparare la tecnica di incidere sulla pietra. Quindi le due specificità si cominciano ad intrecciare. Ancora di più nel bronzo questo, perché questa è la tavola di bottone, un'altra lunga iscrizione etrusca, perché nel bronzo, in questo caso, l'iscrizione viene fatta nella cera persa, quindi nella forma di fusione, quindi su una forma di fusione con la cera, sulla cera, qui si mette il bronzo e il bronzo fondendo realizza l'iscrizione. Quindi già l'intervento dell'artigiano in questo caso è un intervento più consistente. Ancora più evidente nel caso come questo della chimera di Arezzo, dove l'artigiano che fa la chimera, che quindi è un artigiano, è un artista che fa la chimera, che viene fusa, anche questa con la tecnica della cera perduta, fa anche l'iscrizione. Quindi qui siamo già nel campo in cui gli artisti sanno scrivere. Ancora più chiaro le iscrizioni con la tecnica della granulazione in oro, quindi in questo caso le lettere sono fatte con una tecnica speciale dell'oreficeria, che questo orofo è un orofo che sa fare la tecnica di granulazione e sa anche leggere e scrivere. Piccolissimo e rarissimo caso di scrittura non su supporto monumentale, una cosiddetta mummia di Zagabra, cioè una scritta su una benda di lino, una benda di lino che è una vicenda molto complicata, viene usata in modo insolito per fare una mummia, poi viene trovata, però diciamo che all'origine era una benda di lino su cui si scrive con l'inchiostro. È l'unico caso per ora di una scrittura più vicina alla nostra, non monumentale. Altro punto, problema. Noi dicevo prima non abbiamo un problema di decifrazione, abbiamo oltre quasi 12.000, 11.000, 12.000 iscrizioni, quindi tantissime, però abbiamo un problema di interpretazione dell'Etrusto, cioè abbiamo 12.000 iscrizioni, ma queste iscrizioni sono quasi tutte iscrizioni onomastiche, con nomi, con pochi verbi, iscrizioni brevi, i testi lunghi sono pochissimi, alcuni ve li ho mostrati prima, e quando però andiamo a leggere i testi lunghi, qui nasce il problema, perché non sempre quello che riusciamo a leggere, visto che leggiamo un alfabeto greco, riusciamo a capirlo. Riusciamo a capirlo perché qui c'è un problema, che l'Etrusco non è una lingua indoeuropea, è una lingua diversa dal greco, è una lingua diversa dal latino, diversa dal venetico, altre lingue che vedrete qua in queste conferenze, quindi non c'è tanto possibilità di intrecciare queste cose, e cito Massimo Padrottino, perché noi sappiamo poco dell'Etrusco, perché abbiamo le stesse difficoltà che avremmo, se volessimo virgolettato, a prendere una lingua straniera e ignota, da qualche scritta, o nomaste con i nomi, o da qualche insegna visibile nelle strade, o da qualche frammento di testo religioso. Quindi a quel punto, se noi avessimo le lapide dei cimiteri, l'ex foto di un statuario, e volessimo apprendere da questo, che so, una lingua straniera, saremmo davvero in difficoltà. Quindi le difficoltà di interpretare l'Etrusco derivano da questa situazione. Altro passo avanti, qual è il punto, il momento in cui noi conosciamo meglio, abbiamo una grande documentazione epigrafica, è il mondo funerario, il mondo dei morti, il mondo dei morti perché nelle tombe, queste sono delle tombe di cervetti, di tombe a camera, usava a scrivere sull'architale della tomba il nome del titolare della tomba, nella quale poi vengono sepolti i suoi familiari. Quindi noi qui abbiamo una grande quantità di nomi, di nomi che sono i titolari delle tombe, poi vi dirò qualcosa di più sul sistema nomastico, e quindi una grande conoscenza, diciamo, dei cittadini dell'Etruria, però che capita bene dal punto di vista della conoscenza della lingua, pochi sono i messaggi. Ripeto, l'esempio delle lapide del cimitero è significativo, lì se voi andate in un cimitero, avete il nome e cognome, l'anno di nascita, l'anno di morte, eventualmente il verbo disse morì. E nel mondo funerario noi sappiamo, abbiamo una serie di esempi di iscrizioni, queste sono due stelle di Bologna, dove la iscrizione in Etrusco dice io, mi, suzzi, suzzi vuol dire tomba, come vedremo, sono la tomba di un signore che si chiama Belkaikna, e quindi una grande quantità di nomi, di personaggi e di defunti, con anche alcune astuzie molto frequenti in Etrusco, molte volte ci sono i casi di omonimia, quello di prima è Belkaikna, questo è un altro Belkaikna, vedete Belkaiknas, e quindi c'è un problema di identifiare, in questo caso si aggiunge, per non fare confusione, il nome del padre, Belkaikna, quello di Art, come del resto succede anche in ambiti abbastanza recenti. E naturalmente in queste iscrizioni funerarie che hanno a che fare con il defunto, abbiamo anche iscrizioni molto più lunghe, sul sarcofodi, dove abbiamo il nome del personaggio, non ve la sto a leggere, per essere ben oiusi, però abbiamo il nome del personaggio che è il defunto, il nome del padre e della madre, quindi la paternità e la maternità, il nome della carica che ha ricoperto il vita, quindi vedete che andiamo già nell'ambito della vita personale, quanti anni ha vissuto e a che età è morto, soprattutto nella parte finale, non so se ho il modo di mostrare, vabbè, nella parte finale della iscrizione c'è un numerale con un verbo che significa vivere, quindi il tale, figlio del tale, che è stato magistrato, che ha vissuto tanti anni e che è morto, quindi oltre al nome di tanti defunti abbiamo anche delle notizie sulla loro vita politica e personale. E naturalmente in questo ambito sappiamo molto, sappiamo come si diceva tomba, suzi, come si diceva sarcofago, come si diceva camera funeraria, come si diceva visse, visto che ci sono gli anni, murì, lupo che gli anni, questi sono i termini che conosciamo di più perché sono i termini che stanno nell'ambito di quelle 12.000 iscrizioni di cui vi ho parlato, così come sono ben noti i termini che riguardano l'ambito familiare, perché in tutte queste iscrizioni viene ricordato figlio, figlia, figli, padre, madre, moglie, nonno, molto spesso nell'evocare il defunto si dice che è di chi era il padre, chi è la madre, magari di chi era la moglie, anche questo è un altro argomento abbastanza interessante, quindi conosciamo bene l'onomastica, i nomi, conosciamo bene i termini di parentela. Altro passaggio, le iscrizioni sono, oltre a quelle funerarie, sono anche iscrizioni che evocano un atto importante nel mondo etrusco che è quello del dono, che può essere un dono tra individui, quindi un dono di una persona a un'altra persona, come in questo caso, vedete c'è un personaggio, venne il paitina, mi ha donato, dono tra famiglie importanti, il meccanismo del dono è diffusissimo in tutte le società e quindi la gran parte di iscrizioni che noi conosciamo riguarda proprio il dono, compresa la fibula in oro, in decorazione a granulometria che ho fatto prima, che vede che vedete è un dono con chi ha donato e chi è il destinatario del dono. In questo caso noi abbiamo la possibilità di individuare i verbi che indicano il dono, vedete muluani, che purche, aliche, tra l'altro con un problema di sinonimia, qui ci sono i verbi diversi che indicano lo stesso concetto, probabilmente avevano una sfumatura che non siamo ancora riusciti bene a individuare, qualcuno ha tentato di pensare che uno dei verbi fosse perdono alla divinità, qualcun altro perdono tra cittadini, in realtà non è così, però diciamo che sui verbi di dono siamo informati perché la maggior parte delle iscrizioni riguardano il dono tra individui, così come siamo informati sui doni alle divinità, quindi cose donate in un luogo di culto, con lo stesso verbo muluani che vedete, che viene usato per il dono ai cittadini. Molto spesso noi deduciamo che una iscrizione è dedicata a una divinità perché si trova in un luogo sacro, quindi è il contesto esterno che ci fa capire che siamo nell'ambito di un dono alla divinità. Questa è una cosa di Veio, questa è un'altra del santuario di Portonaccio, vedete, mi ha dono a minimo due anni che è un signore che si chiama Avile Bipienas, quindi nei santuari c'è chi ha fatto il dono, il nome del donante ovviamente alla divinità che è venerata in quel santo Mario, questo è un altro ambito dove conosciamo che cosa? I verbi di dono che sono simili ai doni tra uomini, conosciamo ancora molti nomi di individui e conosciamo le divinità. Un'altra iscrizione ancora di dono. Scrivevano da destra a sinistra? Sì, allora, scrivevano prevalentemente da destra a sinistra, ma qualche volta anche da sinistra a destra, ma vorrei subito tranquillizzare, è una pura consuetudine, anche noi potremmo scrivere da sinistra a destra con una scrittura alfabetica, abbiamo deciso di scrivere in questo modo, ma se lei mette in fila le lettere da una... è una consuetudine che non ha grande implicazione sulla... no, no, ma è importante anche perché prima di tutto le posso dire che ci sono casi in cui anche i nostri studiosi, i miei colleghi, hanno letto un'iscrizione da sinistra a destra, in realtà andava letta da a destra a sinistra e non le dì quello che è successo. E quindi i verbi di dono per uomini e per divinità. E poi conosciamo anche altri verbi, costruì, nel caso del Tempio, fece, scrisse, il verbo scrivere è molto evocato, quindi in sostanza conosciamo del lessico le cose che rientrano in queste 12.000 iscrizioni che abbiamo fatto. Vi faccio un esempio di come l'acquisizione di questi termini progredisce con gli studi. Uno dei campi in cui è progredito di più in questi ultimi anni è il nome dei vasi. Siccome molti vasi parlano in prima persona, io sono il, come in questo caso, io sono il cutum del tal dei tali, quindi io sono un vaso di questa forma e trovare lo stesso termine, sullo stesso tipo di vaso ci ha consentito di individuare il nome dei vasi. Io sono il piatto, mi spanti del tali, quindi il piatto si diceva spanti. Questa cuppa, zafna, questa olla, zina, questo un co, cutum, che è un verbo d'avversario, quindi la nomenclatura dei vasi su cui sono le iscrizioni è abbastanza nota. Sistema, vado avanti con un altro, vi ho parlato a lungo del sistema onomastico e qui entriamo più nell'uso della scrittura a livello storico e a livello sociale. Il sistema onomastico in tutti i gruppi è un sistema per individuare il tale rispetto al talaltro. C'è una fase in Etruria, come in tutta l'Italia antica, in cui il sistema onomastico è fatto di un nome individuale, che vuol dire che ognuno è dotato di un nome personale. Quindi c'è un Laris che ha un figlio che si chiama Bel, che ha un figlio che si chiama Lart. Allora vi pregherei di guardare questa sequenza. Io quando vedo Lart, se non c'è scritto di fianco che è figlio di Bel e nipote di Laris, non lo percepisco a livello linguistico, cioè non vedo la relazione tra padre e figlio. Gli Etruschi inventano il nome di famiglia, il gentilizio, e lo inventano per una ragione sociale molto precisa. E cosa significa il gentilizio? Significa che c'è un terzo punto, un signore che si chiama Marche, nome individuale, che dà luogo ai Marchena, cioè alla famiglia dei Marche, con questo suffisso na che significa derivazione appartenenza. Questo è un passaggio straordinario dal punto di vista storico, perché da questo momento in avanti Laris Marchena, dove Laris di prima, ha un figlio che si chiama Bel Marchena, il quale ha un figlio che si chiama Lart Marchena. Quindi la sequenza padre-figlio-nipote è una sequenza sancita a livello onomastico, cosa che non era prima. E questo è un passaggio importantissimo dal punto di vista storico, perché poter trasmettere il nome significa avere lo strumento per poter trasmettere i beni, per poter trasmettere le proprietà, in una società fondamentalmente aristocratica che ha nella discendenza e nell'acquisizione attraverso la discendenza dei beni di famiglia, la sua struttura portante. Questo è il fenomeno dell'onomastico, è in parallelo con il mondo archeologico. Noi abbiamo una fase in cui le sepolture, come in questo caso, questa è una tomba di velio, le sepolture sono rigorosamente individuali, noi non sappiamo che relazione c'è tra una tomba e l'altra, o perlomeno non lo vediamo dal punto di vista monumentale. Da questa fase, che è ancora la fase in cui gli individui si chiamano l'Ares, Bel e Lars, passiamo alla fase in cui ci sono le tombe di famiglia, i grandi tumuli e all'interno dei grandi tumuli le tombe, diverse tombe a camera che racchiudono i membri della stessa famiglia, e cioè i membri che hanno la stessa tomba e che hanno lo stesso nome di famiglia e che insistono in questo modo di seppellire, in questo modo di individuare l'individuo all'interno della società, su questo aspetto della trasmissibilità del nome di famiglia e dei beni di famiglia. Questo è un straordinario passaggio dal punto di vista storico, che è appunto la nascita delle aristocrazie, cioè nascita di un mondo che non solo trasmette questi elementi onomastici, ma che si fa anche, diciamo, manifesta anche una ritualità aristocratica. Faccio un esempio molto rapido, molto semplice, questa è una lunga iscrizione di un'anforetta trovata in un sepolteretto di Bologna, una lunga iscrizione con il nome del vaso, con il nome di chi lo ha donato, con il nome di coloro a cui è stato donato, quindi che mette in luce, diciamo, il rapporto di donazione e con il nome dell'artigiano che lo ha fatto e che lo ha scritto. Questo è un vero poema di ritualità aristocratica. Ovviamente il dono deve essere un elemento prezioso che stava dentro al vaso e che di suo è abbastanza modesto. Secondo, voglio tenere fede al tempi, secondo punto molto importante, oltre a questa incidenza del sistema onomastico e sistema sociale, l'aristocrazia, sul sistema, diciamo, urbanistico e istituzionale. Gli etruschi sono noti per essere i grandi inventori, tra le altre cose, della città. Quelli che per primi, a parte della questione di Roma, adesso qui non voglio fare troppe priorità cronologiche, però hanno inventato questo modo di abitare, che è un modo diverso da quello preistorico per villaggi, per piccoli villaggi, che è un modo più complesso, che non è solo avere più cittadini, avere più abitanti, ma è anche una complessità economica, è una complessità giuridica, una complessità politica. Quindi la città è una grande invenzione che nasce proprio per gli etruschi. Non è un caso che noi conosciamo tra i termini dell'etrusco quelli che etichettano il fenomeno urbano nei suoi diversi aspetti. Queste sono alcune iscrizioni che contengono alcuni termini come rasna, come mezzo, come chiz, come spura, che io ho qui trascritto in latino. E quindi cosa significa? Uno dei termini significa, diciamo, populus, populus inteso come compagine civica. Ma c'è anche un termine che indica la città nella sua realtà urbanistica, nelle mura, nelle strade, quindi la ursa in latino. C'è un termine che indica l'acropoli, cioè la città alta. E c'è un termine che indica la comunità che non è ancora città, scura, che è la cimitas. Quindi in sostanza noi abbiamo la possibilità di vedere l'equiparazione tra etrusco, latino e greco di questi termini, che sono termini che ci fanno vedere come gli etruschi avessero una consapevolezza piena di che cosa voleva dire città, nel suo assetto urbanistico, nella sua struttura politica e nelle sue conseguenze, diciamo così, organizzative. Altro punto in cui le iscrizioni sono presenti nei luoghi sacri, questo è una ricostruzione del santuario di Pirci, qui quando si costruiva un tempio, un grande tempio, lo si commemorava questo atto con delle lamine iscritte, queste sono le lamine d'oro, che evocavano, che descrivevano questa costruzione, diciamo che era una sorta di memoria storica della costruzione, qui in questo caso tra l'altro in etrusco, poi in fenicio e anche in etrusco. La stessa cosa succede a Marzabotto, lo abbiamo scoperto recentemente, due grandi templi, in uno di questi una lamina molto più modestamente in bronzo, ma io dico sempre più signorilmente in bronzo, non siamo così cafoni come gli etruschi, nei regionali che ne sono loro, ed era una lamina che andava in una piccola tabella accanto al tempio. La cosa interessante è che sono piccolissime queste lamine, sono davvero stanno nel panno di una madre, quindi questa iscrizione che evocava la costruzione del tempio, bisognava che fosse letta proprio da molto vicino, ma è un altro ambito in cui gli etruschi lavorano molto. Ultima considerazione, la scrittura e la possibilità di individuare attraverso la scrittura il rapporto con gli stranieri, con i non etruschi. Questo è un semplice quadro delle culture dell'Italia antica, cultura di Golasetta dove stavano i centri, cultura testina dove stanno i venti che parlavano, il benetico che vedrete in una di queste situazioni, di queste conversazioni. Ora, noi abbiamo la possibilità di individuare attraverso le iscrizioni etruschi che stanno tra non etruschi, a Busca nel mondo dei Liguri, a Mombasilio nel mondo tra Liguri e Celti, a Genova nell'area diciamo nord-occidentale, dove non ci stanno gli etruschi come dominio, ma ci sono degli etruschi, ci sono delle iscrizioni etrusche, questa è l'iscrizione di Busca, un nome etrusco, un verbo etrusco, è un signore che si fa seppellire in terra straniera tra i Liguri e i Liguri gli consentono di farsi seppellire con il proprio nome e con la propria lingua. Lo stesso accade in area colassecchiana, dove c'è in questo caso una iscrizione con una, tra l'altro potrebbe essere anche una bilingue, in questo caso una iscrizione della lingua di Colassecca, che è quella dei Leponzi, e poi c'è questo graffito etrusco che viene letto come Zicu, che evoca la scrittura. Quindi su uno stesso vaso, probabilmente usato per un brindisi, noi abbiamo una iscrizione in doppia lingua, una nella lingua del posto che è quella di Borsecca e una in una lingua straniera che è quella di un etrusco, che probabilmente è anche un maestro di scrittura, perché poi gli etruschi insegnano la scrittura a tutte le altre popolazioni dell'Italia settoriale, ma c'è un altro bellissimo esempio all'incontrario di una iscrizione venetica, quindi dell'area nord-orientale, trovata in un sepolcreto di Bologna. Bologna era una grande città etrusca e qui c'è in una tomba questa cista di bronzo che ha una iscrizione in lingua venetica. Quindi in questo caso gli etruschi di Bologna colgono ovviamente nella loro comunità questo straniero, gli consentono di essere seppellito nel proprio cimitero e di scrivere nella propria lingua. Quindi come vedete c'è una grande apertura verso gli stranieri, etruschi nel mondo degli induri, etruschi nel mondo dei celti, venetici nel mondo degli etruschi. C'è solo un ambito settentrionale che sembra essere diverso in questo comportamento e credo che l'incontro con la Marinetti sarà importante perché il mondo dei veneti non consente agli stranieri di scrivere nella loro lingua e anche gli etruschi che arrivano nel mondo dei veneti, sicuramente questo è un etrusco, Raccoi è un etrusco, lo sappiamo, quando arriva tra i veneti mantiene il proprio nome ma lo deve venetizzare e quindi c'è un comportamento diverso. Ma questo è un argomento che lo lasciamo alla Marinetti. Poi avevo un'ultima riflessione tra etruschi e romani ma non so se... Allora, ma questo sarà brevissimo. La lingua è anche un bello strumento per farci capire l'impatto tra etruschi e romani che è un impatto sempre molto, a volte un po' strano, a volte un po' con tanti luoghi comuni. Allora, intanto è interessante se noi guardiamo, diciamo, il numero delle iscrizioni e l'uso della scrittura nei due ambiti, il mondo latino e il mondo romano, credo di avere scritto anche questo dato. Se noi ci fermiamo tipo al 400 avanti Cristo, è un anno così fittizio, noi abbiamo circa 900 iscrizioni etrusche e abbiamo 40 iscrizioni latine. Cioè vuol dire che tra 500 e 400 avanti Cristo gli etruschi iscrivevano molto di più dei latini, forse perché erano anche un po' di più, ma non è solo quello. Allora, questo rapporto è interessante perché noi abbiamo degli etruschi, delle famiglie etrusche molto importanti, in questo caso gli Spuriana di Tarquinia, che sono una grande famiglia di Tarquinia, famiglia titolare della tomba dei tori che molti di voi forse conoscono, che entrano nel mondo romano, vengono assorbiti dal mondo romano, vengono accolti nel mondo romano, nella classe dirigente romana, perché i romani avevano una grande astuzia di accorpare un po' di non romano, usavano una politica molto raffinata e nel momento in cui diventano cittadini romani latinizzano il prossimo nome, quindi gli Spuriana diventano gli Spurina. Nel foro di Tarquinia c'era una famosa, veloce o in latino, di questa famiglia antica di Tarquinia, però in latino. lo stesso accade in altri ambiti, questa è una urna di Perugia, l'iposea dei Volumi, dove i velimna etruschi di vecchia d'arda diventano volumni quando entrano nel mondo romano, quindi latinizzano il proprio nome, quindi la latinizzazione del nome è un segno di integrazione di grattere politico. E poi una statua celeberrima dell'Arringatore trovata nei pressi di Arezzo, una statua chiaramente romana nella sua iconografia e nel suo gesto, nel suo personaggio che sta parlando nel foro, che ha ai bordi del suo mantello una lunga iscrizione etrusca. Quindi è ricordato il nome del personaggio, Aule Meteli e tutte quelle cose che ha fatto in etrusco, in un'età in cui gli etruschi sono già conquistati dai romani. E questa è l'ultima considerazione, così come in altre urne questo passaggio dal latino all'etrusco è frequente. E questo, tornando alla statua dell'Arringatore, mi consente di chiudere un po', di chiudere col fatto che la lingua etrusca è usata anche quando l'Etrudia non ha più la sua indipendenza politica, anche quando non c'è più un'Etrudia come nazione, come gruppo di città, ma è già tutto completamente romanizzata e qua per chiudere viene in mente la tradizione di Mecenate, Mecenate che era un grande intellettuale della corte di Augusto, diciamo nel primo secolo, fine primo secolo avanti, primo secolo dopo, che si vantava di parlare ancora l'Etrusto, cioè la lingua dei propri avi. Quindi vuol dire che anche quando l'Etrudia è conquistata, in qualche modo dal punto di vista politico, mantiene le sue tradizioni culturali e direi che la statua dell'Arringatore è un bel segnale di questo fatto, quindi una statua romana che però ancora ha un retaggio culturale etrusco molto pesante. Vi avevo anticipato che andavo un po' di palo in frasco, sono andato anche un po' di là del tempo che mi erano in promesso, spero che almeno alcuni di questi li possono essere, possono essere il vostro interesse. Grazie, direi in modo diverso per studiare la lingua etrusca, io parto con qualche domanda, però veramente vorrei cominciare io a fare una domanda, poi apriamo le domande al pubblico. Una domanda molto semplice, dato che parliamo di un ciclo di lingue e di scrittura pre-latina, come dialogavano tra loro? Cioè l'etrusco come parlava col piceve, parlava col retinico? Allora, io credo che questo problema si risolve pensando all'arrivo dei greci nell'Italia Revinale a Pitecus e a Puma. I greci arrivano, hanno dei rapporti commerciali con gli etruschi, insegnano loro che esiste la pratica della scrittura. Prima del Settecento nessuno in Italia antica sapeva che si poteva scrivere, mentre greci e fenici erano già abituati a questo. È evidente che nel momento in cui comunicano questo strumento di comunicazione e danno anche lo strumento tecnico per farlo si dovevano intendere. È chiaro che qua siamo in presenza di bilingui, non c'è alcun dubbio che qui in qualche modo si intendevano tra di loro. E io credo che l'insegnamento della scrittura anche tra le altre popolazioni celti, insomma la lingua le bozze tra i celti, avvenisse attraverso persone che avevano la possibilità di entrare in colloquio attraverso forme di bilinguismo se vogliamo sperimentale, ma è assolutamente imprescindibile perché a questo punto questo è un livello di rapporto che non può essere portato a gesti o come il commercio, il baratto uno mette una cosa e poi mette a fianco un'altra, si guardano attorno, valgono la stessa cosa, quindi bisogna veramente fare una riflessione anche teorica e quindi io credo che sia, non abbiamo prove, però credo che sia inevitabile pensare a una presenza di bilingui. Un'altra domanda classica è il fatto che appunto come sappiamo non ci sono fondi scritte lunghe, cioè intese come testi alla latina o letterari o poetici eccetera, si pensa che siano stati bruciati o secondo te o si sono stati dispersi o loro avevano, diciamo così, parlavano o scrivevano soprattutto della patria religiosa, dell'iscrizione eccetera e non erano ancora arrivati a un livello tale da poter avere una scrittura più lunga con dei testi, diciamo così, di letteratura, poi lì eccetera. Allora, intanto questa questione della scrittura che io ho chiamato monumentale in qualche modo è un tratto che riguarda tutte le civiltà dell'Italia antica, anche il mondo latino, anche il mondo latino che in un certo momento, io citavo prima questa data del 445, è un mondo che scrive sui monumenti, poi c'è una sequenza cronologica in cui a partire, adesso lo dico in cifra un po' rosa, ma insomma dal terzo o dal secondo secolo, si comincia a scrivere anche in modo diverso, con supporti diversi, più nella versione del libro, quindi è un fatto cronologico questo, diciamo così, non scrivere su libri in età molto antica, però detto questo è anche vero che anche gli etruschi avevano dei libri, probabilmente anche loro in questa fase più recente adottano questo sistema di scrittura, avevano dei libri che riguardavano la religione, libri auspicini, libri rituali in qualche modo, ma c'erano anche, diciamo, c'è anche notizia di qualche testo in etruso, quindi in sostanza sono andati perduti, forse erano meno di altre lingue, ma sono andati perduti e attenzione, io credo che in questo andare perduti, adesso entro in un campo che non è proprio mio, giocasse anche il fatto che erano scritti in una lingua un po' diversa dal greco e dal latino e non hanno soffluito di tutto quel sistema di copiatura dei testi greci e latini, invece della quale hanno soffluito i nostri testi di cui ci occupiamo. Un'altra domanda che vi faccio è come viene insegnata? Cioè abbiamo modo di sapere, era appannaggio dell'uomo, della donna, come si insegnava? Allora, come si insegnava tecnicamente? L'avete visto da quell'alfabeto dove, come i bambini di elementare, si mette una vocale, una consonante davanti a tutte le vocali, tra l'altro la tavoletta di cera che vi ho mostrato aveva la cera, uno scriveva, poi cancellava e poi riscriveva, quindi tecnicamente lo sappiamo. Dal punto di vista sociale la scrittura nasce sicuramente come patrimonio ed etichetta aristocratica, cioè è un modo proprio di esibizione aristocratico, quindi l'insegnamento della scrittura è un fatto che nasce all'interno dell'aristocrazia etrusca, anzi questa aristocrazia etrusca esibisce questa conoscenza, ci sono delle tombe in cui per far vedere che si conosceva la scrittura si incide l'alfabeto, come dire io sono di quelli che sa scrivere e quindi insegno la scrittura. Poi una volta terminato questo regime di carattere più aristocratico, perché poi gli aristocratici finiscono e vanno, c'è una evoluzione interna, la scrittura si insegna soprattutto nei luoghi di culto e quindi diventano maestri di scrittura, diciamo, le persone addette al culto, quindi i santuari sono dei luoghi di apprendimento e di insegnamento della scrittura. Una scrittura più mire perché sappiamo che la donna etrusca aveva un ruolo importante diciamo così all'interno della società etrusca, banchettava col marito, all'interno c'è una ragazza aristocratica, poteva sapere scrivere? Allora, dal mio punto di vista in questa fase non c'è nessuna differenza tra uomo e donna, quello che fa la differenza è il regime sociale o l'ambito sociale in cui nasce, quindi io non credo che ci sia, anzi non abbiamo tante prove archeologiche, poi so bene che c'è una, così qualcuno ha qualche, c'è Giovanni Bagnasco quindi so bene a chi sto parlando, che tende a valorizzare molto questo ruolo dell'elemento femminile, io personalmente credo che gli elementi per inquadrare questo fenomeno siano quelli di un ambito aristocratico, in cui indipendentemente dall'uomo o donna, ma questo è in tutti gli ambiti, non solo la scrittura ma anche in altri ambiti, si scriveva, si insegnava a scrivere, si imparava a scrivere. La numerazione, perché abbiamo parlato di alfamento e non abbiamo parlato di numeri? Eh lo so, però mi avete anche detto che dovevo parlare di 30 minuti, ma non posso non lasciare, infatti c'è la numerazione, la numerazione la conosciamo abbastanza bene anche perché non ho immagini qui, abbiamo dei dati, dei dati con 6 facce, quindi i numeri fino a 6 li conosciamo bene, dei dati in cui non ci sono i pallini ma ci sono i numeri dei numeri in etrusco e poi con uno studio un po' soprattutto delle nomenclature sull'età siamo arrivati a, i numerali sono abbastanza conosciuti, sistema numerale complesso non tutto quanto però diciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 sappiamo come si diceva, soprattutto per questo uso dei dati. Apriamo le domande a questo punto, le ragazze vi portano il microfono. Grazie, la presenza della stelle di Lemno qui alla mostra che ha scoperchiato il grosso problema della provenienza degli etruschi dato che la lingua non era in europea, erano autopsoni oppure la stelle di Lemno che io ho trovato, quando sono venuta qui al museo mi ha dato un'emozione perché l'avevo studiata e trovarmela davanti è stata incredibile. La presenza di questa stelle in etrusco in un'isola greca ha riaperto veramente la nostra questione, è sempre rimasta lì, cioè non si sa se fossero autottoni oppure se... venissero dall'Oriente. Allora, intanto le confermo l'emozione della stelle di Lemno, le posso dire, l'ho contato anche a qualcuno di per te, l'ho provata anche io, ho visto la stelle di Lemno piccolo piccolo negli anni 70 al Museo Nazionale di Atene, quindi non avevo ancora cominciato a studiare, ero appena laureato. Poi naturalmente da professore di etruscologia e della stelle di Lemno in tutti i corsi ne devo parlare, quindi è diventato un monumento che è entrato nella mia... per cui quando dopo i 50 anni l'ho vista qui e ho detto ma non può essere così piccola, nel mio immaginario collettivo a forse di parlare della stelle di Lemno era diventato un monumento straordinario, ma questo era per dire che l'emozione anche per chi l'aveva vista... con la domanda sulla stelle di Lemno lei anticipa un po' quello che noi faremo in P6, dedicheremo proprio una seduta molto importante, poi Giovanni se vuoi dire qualcosa su questo problema della stelle di Lemno che credo sia molto importante che sia qui a Milano perché è un monumento straordinario collegato al problema delle origini ma in modo molto più sofisticato e raffinato di quanto solitamente si pensa, quindi io lascerei la considerazione sulla stelle di Lemno alla giornata di lunedì, sulla questione delle origini la stelle di Lemno non risolve il problema delle origini ma il problema delle origini si risolve in un altro modo, ha delle connessioni col problema delle origini ma ne parleremo credo il 6. Vi ricordo che forse avete già ricevuto perché è scritto nel nostro newsletter che appunto il 6 alle 5 avremo un incontro proprio sulla stelle di Caminia con la scuola archeologica di Atene, il professor Patti sarà proprio un lungo, una lunga conversazione e degli interventi con anche la storia un po' diciamo così, anche un po' gialla di questo, è un giallo la stelle di Lemno anche come è arrivata in Italia eccetera, per cui come è arrivata è ritornata in Greca, in Grecia è stata rubata a un certo punto è sparita, per cui poi ne parleremo appunto proprio diciamo in più sempre. Ecco qua tutte le domande. Poi c'è il signore qua, adesso lo facciamo. Poi c'è la signora. Quando sappiamo della grammatica etrusca se ci sono elementi di comparazione dalla etrusca e altre lingue? Dalla etrusca? E altre lingue. Allora, della grammatica io non mi sono fermato su questo aspetto, naturalmente sappiamo l'etrusca è una lingua flessa, quindi è una lingua con le declinazioni, sappiamo il valore delle desinenze e le funzioni delle desinenze, tutto per acquisizione successiva di studi interni, il genitivo che indica la proprietà è il caso che conosciamo meglio, quindi sappiamo la declinazione dell'etrusco, sappiamo le voci verbali dell'etrusco, le terminazioni in che sono dei verbi, sappiamo meno dei tempi sulle voci dei verbi, quindi le strutture fondanti dell'etrusco le conosciamo per analogia con le lingue che conosciamo meglio, in ognuna di queste non conosciamo così bene le cose come le conosciamo per il greco e per il latino, però diciamo la struttura fondante è abbastanza acquisita, acquisita per studi e per continue analogie con le lingue, in particolare con il greco e con il latino e con le altre lingue indoeuropee, non so se ho risposto. Il signore, guarda, c'è prima, che era il primo prato della parola. Grazie, innanzitutto grazie per la presentazione, grazie per la presentazione, grazie per la presentazione, le volevo chiedere, si riesce a collocare... Si riesce a collocare cronologicamente quando si è creato il primo suffisto che identificava la famiglia, come lei ha presentato? Il primo suffisto? Sì, 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 no, no, scusate, dunque, allora, noi abbiamo dei dati cronologici assolutamente impeccabili da questo punto di vista, perché se mettiamo insieme l'invenzione del nome di famiglia e la documentazione archeologica, cioè il sistema di seppellire, prima tomba individuale, poi tomba di famiglia, tomba di famiglia è il monumento all'anistoprazzia, perché è la tomba dove si mettono i membri della stessa famiglia, tutto questo avviene nella seconda metà dell'ottavo secolo, questo non ci sono dubbi, né dal punto di vista archeologico, né dal punto di vista, diciamo, epigrafico, attenzione, c'è stato un momento in cui si pensava che l'invenzione del gentilizia, cioè del nome di famiglia, fosse una sorta di espediente pratico per ovviare all'aumento della popolazione, perché voi capite che in un sistema monomastico in cui il nome individuale è Carlo, Giovanni, eccetera, a un certo momento se gli abitanti sono 600 è un conto, se sono 6.000 è un altro, se sono 10.000 è un altro ancora, qualcuno aveva sostenuto che il nome di famiglia fosse un modo tecnico per ovviare a questo, in realtà questa è una spiegazione assolutamente minimale che va, proprio non funziona, noi oggi abbiamo le prove archeologiche di questo grande mutamento dal punto di vista storico e il sistema monomastico è la prova, diciamo così, più importante perché si è Aristoi solo se si è figli di Aristoi, quello che conta è la discendenza, sono i vincoli di sangue, sono i nomi di famiglia, perché dietro questo ci sono i beni, quindi non è solo una questione che caratterizzano di anagrafico, affettivo, è proprio una questione di proprietà, quindi anche pensate a tutte le leggende sbagliate degli etruschi che erano talmente disinvolte che non si accoppiavano con le persone, non sapevano di chi erano i figli, non c'è nulla di più sbagliato, non sapevano benissimo di chi erano i figli, perché poi dovevano sapere a chi lasciarli, quindi la cronologia di questa invenzione è assolutamente fissabile in questo tema. Buonasera, intanto una domanda di carattere lessicale, la lettura delle frasi che abbiamo visto anche in un degli ultimi slide su quel vaso ha un'analisi logica che non è a quella a cui siamo abituati noi, c'è il nome proprio all'inizio, il cognome patronimico alla fine e il verbo in mezzo, quindi usavano un criterio di costruzione delle frasi diverso, mi pare di aver capito leggendo queste iscrizioni. E la seconda domanda, l'assenza di testi molto più articolati e ampi non può far pensare che con il mondo romano i romani abbiano comunque in qualche modo cercato di azzerare tutto quello che poteva essere per loro un argomento magari anche di pericolo sociale. Allora, sulla prima domanda, sulle sequenze forse io... L'analisi logica della frase, nome, verbo... Però la struttura portante delle frasi, indipendentemente dalla posizione, è una struttura portante molto lineare, con prenome, gentilizio, verbo, verbio di dono, destinatario del dono, prenome, gentilizio, anni in cui è vissuto, anni in cui è morto. Quindi le sequenze sono abbastanza... forse con tanti esempi lei ha avuto un'impressione... Sì, ho visto quel vaso, c'erano due o tre frasi allineate in verticale, quel vaso rossiccio, uno degli ultimi slide... Forse, adesso non... Allora, lì ha ragione, nel senso che il modello di iscrizione che io... quello che ho detto adesso è il modello più diffuso, sono le 11.000 iscrizioni. Quindi, no, prenome, gentilizio, un verbo di un'azione per un dono a un altro nome o per un dono alla divinità. Quello che ha ragione, allora adesso ho capito, quello che lei dice è, ci sono iscrizioni più lunghe, tipo questa amforetta rossiccia, come lei l'ha chiamata, lì c'è un problema, che è un problema di un testo un po' più lungo di quelli tradizionali con nome e verbo, ma perché lì ci sono tre segmenti, tre concetti, tre punti di iscrizione. Il primo segmento dell'iscrizione dice chi è il proprietario del vaso, dice Misa, Lenza e poi ci sono i nomi. Io sono il vaso del tale dei tale, primo segmento. Poi la seconda parte dell'iscrizione dice il tale, c'è uno dei nomi, il tale e il tale mi ha donato. Quindi il proprietario del vaso, che naturalmente è il destinatario del dono, chi ha fatto il dono e attenzione con i due nomi, sono tutti nomi di famiglia, quindi non marito e moglie, marito e moglie, mettiamo insieme due famiglie che si legano tra di loro, uno fa il dono e uno lo riceve. Poi c'è un terzo segmento di iscrizione, quindi adesso ho capito, un terzo segmento di iscrizione che dice che è quello più difficile da leggere, è quello più difficile perché mancano delle parti, dove si parla di un rito in ambito funerario, probabilmente dovuto al momento in cui questi signori donano il vaso a gli altri vicini di società con un contenuto che ha a che fare con il rituale funerario, è il segmento più difficile da leggere. E poi c'è il quarto segmento che è la firma dell'artigiano, Ana Minizina, che è Ana Remiru, cioè un tale, mi ha fatto e mi ha scritto. Quindi è un poema dell'aristocrazia questo vasetto, perché racconta i legami aristocratici, racconta una ritualità funeraria ed è talmente importante che l'artista che lo ha scritto si sente il dovere di firmare. C'è la signora Ana, poi facciamo lei e poi facciamo la signora. Lei ha parlato di quando era nel periodo in cui era vissuto, la schizia del suo sarcofago, cioè nel periodo in cui era vissuto il signor, qual era l'anno zero? Dunque, l'anno zero era, mi ha chiesto l'anno zero, l'anno di inizio, sostanzialmente. Allora, l'anno zero lo deduciamo a posteriori, c'è tutta una cosa abbastanza complicata, nel senso che i secoli erano dieci o nove del mondo degli etruschi, che finisce con la conquista romana. Quindi, dal primo secolo a.C., che è l'anno in cui gli etruschi finiscono dal punto di vista politico, si risale di tre, di tre, nove, si arriva al decimo secolo, guarda caso, è il momento in cui noi cominciamo a vedere, dal punto di vista archeologico, la cultura villanoviana che è la cultura più antica degli etruschi. Quindi c'è un momento in cui compare l'aspetto culturale tipico degli etruschi, che è il decimo secolo, che corrisponde anche alla tradizione scritta del secolo a di questo popolo. Sì, una cosa semplice, viene usata anche per i commerci la scrittura, per l'economia come trasmissione, diceva, ma anche come controllo dei movimenti commerciali, o la traccia del calcolo, non so. Assolutamente, veniva usato per il commercio, questo è un altro di quegli aspetti che ho cancellato del secolo, è molto interessante. Dunque, veniva usato, intanto, diciamo, i commercianti che comperavano i vasi ad Atene o in Grecia e li vendevano agli etruschi, molto spesso siglavano questi vasi con una loro marchio da mercante. Quindi noi troviamo dei vasi che hanno dei graffiti che sono dei marchi del commercio, esattamente. In questo caso non è un uso funzionale la scrittura, ma è un'etichetta di tipo commerciale. Però noi abbiamo dei casi in cui la scrittura viene anche usata proprio per transizioni commerciali. Una di queste è una lamina di bronzo trovata a Marsiglia, dove c'è un contratto di vendita per l'acquisto di una barca, sembra, sia in greco che in etrusco e quindi in sostanza, diciamo, un documento di vendita bilingue con, diciamo, un uso della scrittura per fini pratici. Ma quella lunga iscrizione su pietra che vi ho mostrato, che è il cipo di Perugia, è una iscrizione che evoca proprietà terriere, quindi dà l'indicazione di proprietà terriere e ha anche questa dei risuoti economici. Quindi c'era anche un uso funzionale e pratico per questo aspetto. Chi parla di Mastarna? Dice prima la signora. Ah no, allora facciamo prima il signore. Ti chiede di parlare di Mastarna. Allora, Mastarna è una figura che compare in particolare nella donna François de Mucci, in Tombe ripinte, è una figura di cui parla anche Claudio, quindi ha una lunga tradizione. Mastarna è in etrusco la traduzione di magister e quindi di una carica in qualche modo politica, militare. Ma la cosa interessante è che secondo mi pare proprio Claudio, dice che Mastarna era Sergio Tullio e quindi c'è un'identificazione tra Mastarna e Sergio Tullio che naturalmente apre un fronte interpretativo. Adesso io, concentrando i 30 secondi, non posso fare più di tanto, però è importante perché Sergio Tullio è una figura straordinaria, soprattutto in quel passaggio tra mondo aristocratico pieno, quindi quello della discendenza dei vincoli di sangue, al mondo democratico. Sergio Tullio è il re di Roma che introduce come criterio di, diciamo così, di cittadinanza, di essere cittadino, il censo, il denaro, la capacità economica. E allora, adesso non per banalizzare, ma il vincolo di sangue non si compra, il censo e la competitività si compra, a me di questo è un passaggio e quindi Mastarna ha questo ruolo anche molto, ho messo insieme un po' di cose, ma insomma. Per amore, tutte le parole conosciute, ci sono legami con il sanscrito? Allora, il celtico, la lingua dei celtini? No, non ho capito proprio il senso fonetico, legami con il sanscrito, ah no, no, sì ho capito. Direi di no, direi di no, io il sanscrito, devo dire che uno dei primi esami che ho dato proprio di sanscrito, lo ricevo, quindi vedete, intanto credo da un punto di vista cronologico che sono un po' di problemi, però direi proprio che non, non ci sono... Nessun legame con il mondo vindo? No, 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 secondo me non ci sono, so che c'è un po' di letteratura che mette questi legami con un oriente un po' misterioso, ma mi risponderei di no, con beneficio di inventare perché non sono competente in quella lingua, ma sono abbastanza sicuro di poterlo. Buonasera a tutti, si sente? Buonasera a tutti, si sente? Sì, sì, grazie. Ringrazio il professore della fondazione per questa conferenza, non vorrei far perdere troppo tempo alle persone, ma ci sono molti argomenti, diciamo, di accordo e disaccordo. Allora, un quarto, un attimo, abbiate faccio, un professore ha detto che l'etrusco è una lingua non indoeuropea, quindi se ci sono i non indoeuropei ci sono gli indoeuropei, quindi bisogna capire da dove vengono e chi sono gli indoeuropei e chi sono i non indoeuropei, questa è la base della discussione. Il sanscrito è una tipica lingua indoeuropea, c'è qualcosa da disentire? Vado avanti, posso? Sì, certo. Grazie. Ovviamente cito qui nella libreria c'è un grande testo del linguista Harman che parla degli indoeuropei, quindi chiunque di noi può andare a leggere i libri di Harman, che prende spunto dalla grande archeologa Maria Gimbutas che scrisse per prima, ma gli studi indoeuropei salgono nel XVI secolo nel 1956. Quindi la prima cosa da chiarire chi sono e dove vengono gli indoeuropei e chi sono e dove vengono i non indoeuropei. Saltando di palla in frasca, il professore ha detto una cosa molto importante di Sergio Tullio che sarebbe, diciamo, secondo reggenda il figlio spuglio di Tarquinio Prisco. Tarquinio Prisco è il quinto re di Roma, Tarquinio è un re etrusco. Quindi si capisce molto bene, ma vi evito di dire alla letteratura che Roma nasce dalla confluenza, merge, convergenza tra latini indoeuropei, sabini indoeuropei ed etruschi non indoeuropei. Sergio Tullio ha fatto un sacco di cose, tra cui le cosiddette mura serviane. Se voi uscite dalla stazione Termini, sulla destra, ci sono le mura serviane. L'incontro ragionevole, probabile tra gli etruschi e i romani, si potrebbe dire favoreggiando, e sull'isola tiberina, perché gli etruschi vengono, diciamo, da Lazio. Veio è la città più importante, a 16 chilometri, Cerveteri 30 chilometri, Volci 50 chilometri. Il porto di Pirgi è vicino a Cisaretto. Poi ritorneremo sulla Lamina, Etrusco, Fenicia. La convergenza magica delle tre popolazioni costruisce Roma. Per quanto riguarda l'aspetto... Mi scusi, le faccio fare una domanda perché ci sono altre persone, non voglio la lettera di pratica, ma altrimenti le altre persone non possono parlare. Volevo solo a mente dire, buttare lì, che ci sono parecchi punti aperti di accordi e disaccordi. Quindi ci sono... Ma questa è la storia, e questo è lo studio dell'archeologia. No, è importante sapere che ci ci sono più interpretazioni rispetto a quanto è stato detto questa sera. Posso finire? Sì? È importante sapere. Quindi le questioni sono molto aperte. Molto, molto... Anzi, molto chiare. L'ultimo esempio. I greci arrivano a Isia nell'Ottavo secolo di Cristo... Un attimo, finisco? No, non ci interessa. No, interesse... Cioè, a chi interessa? A nessuno. A qualcuno interessa. No, nessuno. A nessuno. Finisco? Ho direttamente... E finisco? Lasciamolo venire un secondo. Grazie a Giunta. I greci arrivano all'Ottavo secolo di Cristo a Isia. I fenici erano già presenti. E cosa lo studiamo anche noi? I greci nel periodo arcaico hanno la lineare B, che è una lingua indoeuropea, cioè successiva alla grande crisi del XII a.C. dove si spacca l'Ottavo secolo. La lineare A, inoica, invece ha ben altre origini e non indoeuropea. Quindi ci sono molte cose da rimettere sul tavolo. E qui in fermo. Allora, la ringrazio per aver fatto tutti questi problemi e ribadisco una cosa importante, che queste conversazioni, se ci fosse stata la professoressa Bagnasco, probabilmente su alcune che c'è, che avrebbe discusso al posto del professor Sassatelli, probabilmente alcune divergenze ci possono essere, come è normale, in una scienza come l'archeologia, che è ancora una scienza di studio, ma sperimentale. Ogni giorno conosciamo qualcosa, un esempio è la steve di Vicchio, qui sotto, ci sarà una giornata chiusa in cui i maggiori, diciamo così, epigrafisti, esperti di lingua etrusca e non solo verranno a studiarla. E' bello del conoscere queste civiltà, cercare di capirle e avere delle interpretazioni. Io arrivo dal mondo della scienza, dal mondo della medicina e le garantisco che la ricerca ogni volta è diversa siccome la si vede. Per cui adesso facciamo le ultime due domande, vuoi rispondere? No, voglio rispondere semplicemente su una cosa, su tutte le altre potremmo discutere anche su una cosa, rispondo, solo che ci siano più interpretazioni, non vi è dubbio. Io sono 60 anni che faccio questo lavoro, no, 60 anni adesso sto un po' esagerando, però io ho sempre vissuto di colloquio, di contraddizione, di confronto, di cambiamento di opinione, di sentire le cose, andare a studiare altre cose. Quindi secondo me, quello che io ho detto è il risultato delle mie attuali condizioni, probabilmente se vengo qui fra un mese, dopo aver studiato un po', vorrei che vi dica delle cose diverse. Quindi la volevo assolutamente tranquillizzare sul fatto che ci siano opinioni diverse, idee diverse, poi non sto adesso sul merito delle cose, però è il sale della vita di un ricercatore. Perfetto, signore? La voce è abbastanza potente, sono semplicissimo la domanda, poi la risposta è da lei, visto che lei quasi lo parla, per la fonetica, come si è regolato, ha approssimato la presunta greca, la presunta latina? Allora, è molto interessante questa domanda, noi sulle altre lingue abbiamo dei testi teorici sulla fonetica, lingua latina, lingua greca, che ci dicono il suono dei segni. Quindi abbiamo dei testi teorici, siamo sicuri. Per l'etrusco non abbiamo nessun testo teorico, siamo arrivati a una fonetica approssimativa, pensando che il suono delle lettere che gli etruschi usano fosse più o meno lo stesso che avevano i greci. Quindi è una, per, diciamo così, per approssimazione, per analogia, credo che sia, è tutto sommato un artificio, ma abbastanza plausibile. Però non abbiamo un testo che ci dice che il gamma è l'are, che è l'aviale, eccetera, eccetera, però, avendo i segni dell'alfabeto greco, noi li leggiamo, gli etrusco non li leggiamo come se fossero scritti in greco. Credo che siamo abbastanza vicini, probabilmente, poi ci sono anche delle sottigliezze più, però adesso diventa un po' complesso, però, diciamo, per vicinanza al mondo greco. L'ultima domanda? Allora, vorrei tornare un attimo sulla questione del bilinguismo, o meglio, di come comunicavano i popoli della penisola. Mi è capitato di recente di imbattermi, parlo da profano, mi è capitato di recente di imbattermi in un brano scritto da un funzionario bizantino, da Giovanni Vito, che parla dell'origine della religione etrusca e descrive l'episodio in cui c'è questo vecchio a cui viene rivelata la religione etrusca da un fanculo che esce dalla terra. E si dice che questo signore anziano poi avrebbe comunicato il fatto che sia in lingua etrusca sia nella comune lingua italica. E non ho mai trovato nessun commento su questa tribuna lingua italica e non si capisce bene cosa sia. Stasera, sentendo parlare di lingua antica di scrittura monumentale, mi è solo più dubbio, se non hai di queste scritture monumentali, essendo proprio molto tecniche, in qualche modo, siamo sicuri di quanto erano effettivamente correlate con la lingua parlata. Mi viene da pensare che potessero essere quasi degli strumenti come un paragone un po' tardato forse, con i linguaggi di programmazione di oggi o comunque con dei linguaggi informali. Per cui è possibile che in realtà, come dire, la lingua parlata fosse in realtà molto più omogenea e che si fossero poi esacerbate successivamente quando le identità etniche e l'autonomia politica venivano veramente minacciate nell'esternazione romana, che fossero un po' esacerbate, così esasperate queste differenze, ma che in origine questo mosaico linguistico fosse più finito? Allora, un problema molto complesso. Lei prima vedeva la grande storia vicenda di Intergete, il giovane bambino che viene fuori dalle zolle della terra, mentre si era in campo e che ha l'aspetto già del vecchio, quindi è il bambino che ha l'aspetto del vecchio saggio, che insegna agli etruschi, oltre più che altro insegna agli etruschi tutta la loro dottrina religiosa, tutti i loro aspetti di legislazione. In quello racconto la contraposizione etrusco-italico è un po' improprio, etrusco-non-etrusco, italico è un termine topo generico, perché va suddiviso in tante lingue italiche, non so se questo che è più sottile è la domanda, il problema del rapporto tra lingua parlata e scrittura monumentale, questo è difficile, è chiaro che la lingua monumentale, la chiave lingua monumentale è quella del Cipo di Perugia, quella dei monumenti pubblici, quelli che uno leggeva quando andava al Tempio e guardava la lamina che evocava la costruzione del Tempio, oppure la tavola di Cortona che stava in un archivio, uno andava a leggere e guardava come se fosse un archivio notarile. E' evidente che questi monumenti hanno probabilmente un linguaggio anche giuridico, oltre che aulico, un po' diverso dal linguaggio parlato, questo è possibile, però questa è un'operazione che difficilmente riusciamo a sondare, lo possiamo intuirlo, possiamo pensare, tra un monumento solenne che evoca la dedica e la costruzione di un Tempio e un linguaggio parlato, qualche differenza ci dovrebbe essere, ma rimane un po' nella lebbia delle conoscenze. Bene, io direi, scusate, perché sono le... Ultima domanda, la signora. Dai, lasciamo l'ultima domanda alla signora, finiamo con una domanda per miglia. Immagino che ci siano delle parole che attraverso il latino sono arrivate fino alle lingue di oggi. Io ho letto dei libri, magari mi sbaglio, ho imparato... Tante, tante. Ecco, c'ho Greci, Carena, Prora, tutta quella serie lì, satellite, è giusto? Non lo so, adesso comunque molte parole latine sono arrivate sicuramente. Lei mi dica la domanda? No, era questo, volevo sapere se era vero che molte parole etrusche attraverso il latino sono arrivate fino a noi. Qui è un po' più difficile. Perché io ho letto dei libri, ma non so se siano giuste queste cose che ci sono scritte. Credo che sicuramente nessuna parola etrusca sia arrivata nella lingua contemporanea, o è? No, no, no. La lingua contemporanea, no. Greci, io per esempio, adesso non voglio farle perdere tempo, ma leggevo che loro chiamavano gli elleni, i greci chiamavano se stessi elleni, e gli etruschi li chiamavano Cracoi, qualcosa del genere. No, no, dice proprio un pezzo formidabile di Giorgio di Alicarnasso che non lascia dubbio. Dice che i latini li chiamavano Tusci, i greci li chiamavano Tirrenoi, e questo è importante a proposito dell'indio europeo, non l'indio europeo. E gli etruschi chiamavano se stessi, ma i greci come li chiamavano Tirrenoi? No, gli etruschi come chiamavano i greci. Ah, questo è un altro problema, questo è un problema più sottile. Però volevo tornare sulla questione dei nomi, è importante questa... qui si capisce cosa vuol dire indio europeo, cioè mentre Tusci, Tirrenoi, nella tradizione delle lingue europee hanno una lunga storia, un nome che è totalmente fuori da queste tradizioni è Rasena, Rasena che quindi fa capire che Dionisiani di Alicarnasso dice, chiamavano se stessi con questo nome perché erano diversi da tutte le altre popolazioni vicine. Quindi è una diversità che non è solo una questione da dove venivano, dove non venivano, che indio europeo e non indio europeo è anche un fatto cronologico, anche in Grecia c'erano dei non indio europei, poi, sì, poi il lineare vino non ha nulla a che vedere con i greci che vengono in Italia, ma questa è un'altra questione. Ecco, quello che lei domanda, io sinceramente non conosco tanto di queste possibili immissioni di termini. Poi adesso sto pensando come i greci chiamavano dunque, cioè lei vorrebbe sapere che non usavano... Beh, ho letto dei libri, volevo semplicemente avere una conferma su quello che avevo letto, cioè che gli etruschi chiamavano gli elleni qualcosa tipo Krakoi che poi è diventato greci nella lingua... No, no, certo, allora, no, no, sì, sì, no, no, Krakoi, sì, adesso capisco, certo, certo, questo lo sappiamo, lo sappiamo, ma Krakoi è il nome come i greci chiamavano se stessi, però è attenzione, quindi non è un fatto etrusco. Il problema che riesce a vedere è un altro, che in etrusco c'è un gentilizio che è Kraikalu, Kraikalu che è dove il termine alu significa derivazione, vuol dire figlio di un greco. Allora, è un signore che è in etrusco, che ha etruschizzato il proprio nome mettendoci un suffisso etrusco, accanto a un nome che è greco, che è il nome di un esnos, quindi non è un nome etrusco. Quindi Kraikalu è il greco come gli etruschi lo chiamavano, ma usano per dire questo un termine che viene dal greco. Non è una loro invenzione, Kraikos è il nome con cui i greci chiamavano se stessi. Per caso lei e i suoi colleghi, avete accesso ai dipinti della tomba François che la famiglia Torloni ha staccato e portato a Roma? Io tempo fa l'ho vista in caso eccezionale, poi l'ho andata a una mostra a Venezia, quindi io l'ho vista personalmente, però non so adesso tecnicamente che cosa voglio fare per vedere. Fare un modulo, per la Torloni si fa un modulo, ma nella vita Torloni fa un modulo. Viva Dalli, viva Dalli, devi chiedere alla Fondazione Torloni, adesso ogni tanto attimo. Bene, io vi ringrazio per la partecipazione numerosa, è molto interessata. Abbiamo messo un po' in difficoltà al professor Stassatelli, con delle domande che è un po' insidiose. No, comunque, ma questa è... Ma i professori sono bravi, sono bravi degli studenti. Grazie. 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 Grazie.